Musica Giovedì 16 gennaio, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 c'è l'informazione in diretta alle 7 con la rassegna stampa o che giornali che comincia come sempre con il santo del giorno lo vediamo subito anche perché vogliamo fare gli auguri a qualcuno che porta per esempio il nome di Giuseppe e allora Beato Giuseppe Tovini così come Santiziano e Santa Giovanna Vergine quindi auguri anche a queste persone di buono nomastico il sole sorgerà alle 7.38 e tramonterà alle 16.57 subito uno sguardo al tempo perché oggi è importante vedere se effettivamente la protezione civile delle Marche mette questo cambiamento nei prossimi giorni oppure tutto resterà così come lo abbiamo visto il tempo in queste ultime settimane ovvero sereno o al più poco nuvoloso così come per oggi oggi tra l'altro c'è anche un po' di vento con vento moderato diciamo ma i fenomeni saranno soprattutto quelli che riguardano le gelate diffuse durante le ore più fredde della giornata soprattutto nel centro della regione non tanto al nord mentre per la giornata di domani venerdì 17 avremo un cielo sereno poco nuvoloso ma il tempo cambierà e speriamo che questa previsione sia azzeccata nella giornata di sabato quando avremo queste attesissime deboli seppur deboli precipitazioni sparse soprattutto nel settore settentrionale della regione con il limite delle nevicate che sarà intorno ai 1500 metri relativamente vedete al Nerone, Catrica, Carpegna domenica sarà caratterizzata invece da precipitazioni di voce diffuse sui settori interni e precipitazioni piovose sparse e meno intense verso la fascia costiera come vedremo tra poco neve e pioggia che sono fondamentali per tutto il nostro territorio non solo per lo smog come vedremo ma anche proprio per scongiurare la crisi idrica dell'estate ma c'è anche l'agricoltura che chiede in particolare il grano lo vedremo appunto tra un istante chiede acqua ma andiamo a vedere e partiamo dal Corriere Adriatico proprio parlando di smog i dati sono a rischio ma non scatta l'emergenza grave pericolo per le polveri sottilissime a Pesaro e a Fano non c'è nessun provvedimento è allarmante l'inquinamento dell'aria che respiriamo le condizioni meteorologiche hanno determinato dall'inizio dell'anno un ristagno dello smog in tutta l'atmosfera con lo sforamento dei limiti di legge l'emergenza è scattata in mezzo Italia ma Pesaro e Fano si spera nella pioggia preoccupanti i dati delle PM10, le polveri sottili allarme rosso per quelle sottilissime e come dicevamo serve a questo punto la danza della pioggia a gennaio niente precipitazioni l'agricoltura e inquinamento per l'agricoltura e l'inquinamento è allarme rosso mai così da 30 anni le sorgenti sono sotto osservazione e si parla già di emergenza siccità questo è il resto del calino di Pesaro Berloni spunta un'industria locale telefonata al liquidatore per farsi avanti ma intanto i tempi sono lunghi e 10 dipendenti si licenziano mentre a centro pagina la resistenza al web a internet chiudono le librerie e i negozi di dischi a Pesaro ma c'è anche chi non molla e poi nelle pagine interne la missione nelle Filippine di una suora suoradele con le sue consorelle che lanciano un appello rischiamo la vita sotto il vulcano e poi la salute la nostra salute l'influenza che prepara la spallata tra pochi giorni arriverà il picco di questa influenza tra fine gennaio e inizio febbraio e dunque c'è una task force per affrontare questa emergenza ad Ancona invece l'apertura del Carlino colpito dalla pala morte nel cantiere incidenti sul lavoro giornata nera una vittima nell'area del nuovo Inerca e un ferito grave al CNR della Zipan dove si costruisce il nuovo ospedale mentre a centro pagina la fotografia con i calcinacci che vedete qua a terra l'assessore Foresi all'interno della galleria dopo i crolli una galleria che perde i pezzi distacchi di cemento nel tunnel sull'asse furgone che è stato centrato per fortuna non c'è stato però nessun ferito a Cupra Montana invece il processo per quest'uomo che uccise il figlio di 5 anni è stato assolto perché è incapace di intendere il Carlino di Macerata stalking dall'ex fidanzato lei lo denuncia ragazza nel mirino un maceratese di 30 anni sotto accusa insulti e minacce dopo la fine della relazione ma la fotonotizia per la viabilità che è promossa un test bis alle casermette residenti e negozianti dicono così va bene non ci sono le code l'influenza il direttore generale dell'azienda ospedaliera Marche Nord Maria Capalbo insieme al direttore sanitario Edoardo Berselli hanno convocato nei giorni scorsi una cabina di regia a cui hanno partecipato i direttori delle strutture i coordinatori infermieristici e la direzione medica che cosa hanno deciso tra le varie e tante cose una delle principali misure adottate riguarda la decisione di mettere a disposizione del pronto soccorso 30 posti letto in più di altri reparti per evitare di avere pazienti che a lungo sostano nei corridoi del pronto soccorso prima di essere ricoverati nei reparti di pertinenza e dicono i vertici che il modello preso a riferimento è quello dello scorso anno perché comunque ha funzionato bene soprattutto nei giorni più difficili e dicevamo di gennaio gennaio questo mese che avanza e che insomma non ha visto nessun giorno di pioggia ma è così da 30 anni e scatta dunque l'allarme siccità a parlare Redo Fusari che è un meteorologo dell'osservatorio di Macerata il quale dice questo risultato del surriscaldamento globale senza la neve la situazione va peggiorando la neve quest'anno ci ha messo lo zampino dice ancora il meteorologo sui monti marchigiani c'è solo la neve sparata dai cannoni sugli impianti sciistici e questo contribuisce a rendere ancora più aridi i terreni la neve sottolinea ancora Fusari ha il vantaggio di sciogliersi lentamente e in questo modo l'acqua può penetrare nel terreno e accumularsi nelle grotte sotterranee delle montagne per poi finire nelle sorgenti e dunque arrivare fino a noi se le nevicate scarseggiano i problemi aumentano e da diverse settimane come dicevamo nelle Marche insiste un'area di alta pressione che ristagna sull'Europa centro-meridionale e convoglia le perturbazioni soprattutto verso il nord dunque superando l'Italia nel fine settimana come abbiamo visto poco fa dalle previsioni del tempo qualcosa potrebbe cominciare a cambiare ma non è detto dice ancora il meteorologo e comunque non basterebbe per risolvere in toto la situazione che si è venuta a creare perché per compensare i lunghi periodi di siccità avremo davvero bisogno di abbondanti precipitazioni anche a febbraio e nel mese di marzo intanto il grano è senza acqua sta diventando giallo come dice Paolo Guglielmi che è un imprenditore della Coldiretti una cosa che non va affatto bene ancora di più se si considera che le Marche sono una regione vocata proprio al grano nella mia azienda dice siamo fortunati perché abbiamo un lago all'interno della proprietà ma non succedeva da molto tempo che dovessimo attingervi in inverno e a questo si aggiunge il fatto che siccome non piove non si possono usare i concimi né biologici né chimici poiché senza l'acqua non entrano in funzione e dunque sono inutili ma il problema è anche come dicevamo per lo smog lo smog fa paura siamo a 32 sforamenti Marchetti che è il direttore generale dell'ARPA parla dei dati regionali critica la situazione registrata nel Pesarese la pagina di Fano del resto del Carlino invece a Sant'Orso i residenti sono esasperati monta la rabbia vogliono le telecamere perché ci sono atti di vandalismo continui giorno e notte anche contro le auto in sosta malgrado sia stata individuata una baby gang nei giorni scorsi ve ne abbiamo parlato anche nel telegiornale che hanno avuto la ramanzina da parte della polizia locale dei genitori convocati in caserma tutto quanto insomma i balordi continuano ad imperversare e solo negli ultimi quattro giorni racconta un residente Andrea Rosati un 35enne lupo di mare dice solo negli ultimi quattro giorni davanti al nostro condominio hanno rubato prima il Land Rover nuovo del mio vicino di casa e la mattina dopo il portafoglio della mia auto praticamente in pieno giorno siamo esasperati e non ci sentiamo al sicuro tant'è che i condomini organizzeranno un'assemblea straordinaria per prendere insomma decisioni tra l'altro al vaglio c'è anche l'ipotesi di installare degli antifurti degli antifurti perché insomma ce ne sono tanti il quartiere però è pericoloso anche non solo per furti e dispetti o atti vandalici ma anche per ciclisti e pedoni a Sant'Orso la Lega di Fano affronta il nodo della viabilità proponendo otto facendo otto proposte il Corriere Adriatico invece apre con il progetto ampio progetto partecipato per la candidatura di Fano a Capitale della Cultura domani alle 17.30 nella Sala Verdi le associazioni e i cittadini sono invitati a formulare delle proposte l'appuntamento alle 17.30 ma il Corriere Adriatico questa mattina ricorda anche di un compleanno che è un po' passato così alla chitichella nessuno se ne è ricordato il 2 gennaio scorso infatti era il compleanno di Pandolfo III Malatesta sono passati 650 anni dalla sua nascita e mentre il Comune di Pesaro prevede per esempio ingenti onoranze ed iniziative per il compleanno di Rossini che cade il 29 febbraio quindi lo festeggiano soltanto ogni 4 anni e Urbino farà le cose in grande per festeggiare Raffaello Fano ignora Pandolfo ora direte voi chi era Pandolfo III Malatesta l'ho sentito dire ma non so chi sia quest'ultimo è stato uno dei principi più illuminati tra Medioevo e Rinascimento Capitano di Ventura uomo politico che governò anche Bergamo e Brescia ma anche un uomo amante delle arti e delle lettere che fece di Fano nel XIV secolo un centro importante tra le signorie italiane costituendo un enclave all'interno dei possedimenti dello Stato della Chiesa e giustamente dice e scrive il Corriere questa mattina ricordarlo il 2 gennaio avrebbe arricchito la candidatura a Capitale della Cultura la Lega lancia 8 idee per Sant'Orso noi dalla parte di chi lì vive e lavora chiesti un vigile di quartiere più telecamere proposte anche per viabilità ed ecoro urbano ora c'è un servizio che vi invito a seguire che abbiamo realizzato come Fano TV ieri insieme a un rappresentante che è un gruppo della Lega Ser Filippi e quindi vi risparmio adesso tutti i particolari potrete vederlo sia alle 11 che alle 13.45 sul canale 17 di Fano TV ma anche è un demanda sul nostro sito internet occhianotizia.it tra le varie cose proposte tra le 8 cose proposte dalla Lega c'è anche quello di spostare alcune delle 6 antenne che sono presenti nella rotatoria all'uscita della superstrada una rotatoria che è vista da migliaia di persone è la rotatoria più in vista in assoluta ed è lì un po' così abbandonata sarebbe davvero un bellissimo biglietto da visita se realizzata messa a posto abbellita decorata tutto quello che volete in realtà è lì così ciao Menko vivrai sempre nei cuori di tutti quelli che ti hanno conosciuto tanti ricordi ed emozioni sui social network per Patrick Patrick che verrà salutato oggi alle ore 15 nella chiesa di Centinarola di Fano dove appunto ci sarà il funerale di questo ragazzo di 24 anni che è uscito di strada con la sua macchina una panda la notte tra sabato e domenica ed ha perso la vita ferito invece c'è il suo amico per lui tanti messaggi tantissimi messaggi oggi pomeriggio ripeto alle 15 si sarà la cerimonia funebre nella chiesa di Centinarola nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù e vi ricordo che alle 14.30 circa ci sarà un bus navetta che partirà dal parcheggio del Codma di Rosciano e farà la spola dal Codma dal parcheggio alla chiesa e viceversa quando saranno finiti i funerali proprio per agevolare anche il parcheggio perché la chiesa il parcheggio antistante la chiesa non è molto capiente di conseguenza i parenti e gli amici hanno pensato di organizzare meglio questa cosa anche perché c'è una via la via davanti alla chiesa che verrà completamente chiusa al traffico quindi ecco per chi vuole parcheggiare c'è questa opportunità del Codma con il bus navetta andiamo avanti con la nostra segna stampa e andiamo a vedere l'altra pagina del resto del carlino di Fano neppure Gesù ha mai parlato di celibato parla Primo Cirlantini Primo Cirlantini che è stato parroco della chiesa di San Giuseppe al Porto oggi è padre di tre figlie e sogna di diventare nonno si accende dunque il dibattito sui preti sposati dopo il caso esploso in Vaticano Cirlantini che appunto è ex parroco dice la sua non si vuole consacrare più nessuno perché dovrebbe rinnegare interessi e affetti ma nel Vangelo si segue Cristo così come si è e poi si parla di un pranzo di solitaria di età sempre che porta la firma della famiglia di Primo Cirlantini il Natale in casa Cirlantini la gioia di Costanza una delle figlie che dice abbiamo raccolto 5.625 euro fuga dalla Berloni in dieci si dimettono cercano nuova occupazione perché si prospettano tempi lunghi è arrivata una manifestazione di interesse anche da un'industria locale Morani dice il tavolo al Mise al Ministero non è stato ancora fissato aspettiamo le trattative non è stato dicono i lavoratori chiesto il licenziamento e nemmeno la cassa integrazione andiamo sulla pagina invece di Fano sempre del Carlino si parla del problema dei cinghiali ce li troviamo anche dentro casa aumentano le segnalazioni nelle campagne tra Fenile e Centenarola Di Sante della CIA dice aumento incontrollato subito gli abbattimenti anche perché come dice Di Sante ricorda che i cinghiali sono gli animali selvatici che causano maggiori danni all'agricoltura superando di gran lunga quelli arrecati dai lupi e la loro proliferazione anche nella nostra costa richiede azioni immediate e straordinarie se sono arrivati a Fano significa che le riserve naturali non funzionano come dovrebbero favorendo una esplosione demografica che non si era mai registrata prima e ancora minacciati dal vulcano pregate per noi dice dalle Filippine lanciando un appello suora delle Toccacieli che è aiutata da tanti pesaresi la possibile esplosione potrebbe provocare una vera e propria tragedia grazie alle vostre aduzioni si è fatto tanto ora però serve anche vicinanza spirituale poi la notizia sempre dal Carlino di Pesaro che è morta a 88 anni Maria Diotallevi suo marito denunciò le foibe domani alle 15 ci sarà il suo funerale è morta ieri all'ospedale di Fano Maria Diotallevi moglie di Umberto Bertolucci il pesarese che per primo in città raccontò il dramma delle foibe Maria si è spenta improvvisamente muore una donna comune una mamma degli anni 50 quando le famiglie erano numerose oltre che belle il funerale oggi alle 18 il rosario e domani alle 15 il funerale nella chiesa dei Capuccini a Pesaro Aiese uccise il figlioletto assolto perché incapace la corte d'assise di appello ribalta la condanna a 12 anni in primo grado il 27enne dovrà andare per 10 anni in una struttura psichiatrica è un macedone accusato dell'omicidio del figlio di 5 anni Amid ucciso a Copramontana il 4 gennaio del 2018 con le proprie mani soffocandolo in auto e a ribaltare la sentenza di primo grado che ad ottobre 2018 l'aveva visto condannare per 12 anni 12 anni di carcere è stato poi invece l'appello la corte d'assise di appello però dovrà andare appena appena avranno individuato una nuova struttura una struttura psichiatrica dovrà rimanerci almeno per 10 anni perché è considerato socialmente pericoloso a Senigallia invece un minorenne scommette dunque è stato multato di 6 mila euro la polizia ha scoperto il ragazzino in una sala gioco che ora rischia di chiudere l'attività licenze rilasciate dalla prefettura un centro massaggio invece a luci rosse condannata l'estetista e tre cinesi la donna italiana era l'unica ad avere i permessi per poter aprire l'attività che però era gestita poi da altri è un centro estetico che si trova si trovava forse è stato chiuso via Raffaello Sanzio a Senigallia dove c'era questo via vai ambiguo di una nutrita clientela sesso a pagamento con due sorelline questa è la cronaca di Urbino no alla richiesta di perizia psichiatrica una storia torbida brutta drammatica che ha visto protagoniste due ragazzine che all'epoca dei fatti nel 2016 avevano 14 e 16 anni rinvio a giudizio anche per la madre e il padre che sono accusati di aver sfruttato la prostituzione delle figlie ieri c'è stata la prima udienza urbinata dopo l'iter processuale Anconetano e è stata chiesta come dicevamo una perizia psichiatrica per la donna di 27 anni ma secondo gli inquirenti insomma secondo il collegio non gli inquirenti il collegio la donna può affrontare il giudizio il papà invece non si sa dove è finito mentre si sa benissimo chi è che ha abusato e approfittato di queste di queste ragazzine un 73enne un 78enne che poi hanno deciso di procedere con il rito abbreviato e poi per loro hanno chiesto 4 anni e 3000 euro di multa poi altri personaggi squallidi e torbidi tutto questo è successo a Pietrarubbia dove la famiglia tra l'altro è stata anche marginata soffrendo come dice l'avvocato che difende la donna da un forte pregiudizio sociale andiamo invece sulla pagina del Carlino di Urbino presto il nuovo primario di oncologia il reparto avrà presto questo nuovo primario si è conclusa infatti la procedura di selezione e a breve si conoscerà il medico che dirigerà questo reparto fondamentale per l'ospedale di Urbino restano invece molte critiche criticità ancora da sanare come la carenza di medici in dialisi e a medicina generale chiuso invece il negozio delle meraviglie restiamo sempre a Urbino dove questo negozio che aveva aperto esattamente 30 anni fa per la festa di San Crescentino che era il patrono della città ebbene dal 6 gennaio del scorso il negozio di Francesco Bartolucci in via Veneto ha tappezzato le vetrine di foglie bianche annunciando con un cartello che l'attività era chiusa e si parla invece sulla pagina di Fossombrone Caglio Urbino del Carlino questa mattina della famosa guinza della galleria quella incompiuta la incompiuta dell'Italia insomma ne parla la Lega però la Lega che aveva affisso dei manifesti che però sono stati strappati un incontro su Fano Grosseto e dintorni con il vice segretario Andrea Crippa ma c'è chi non gradisce l'appuntamento che è previsto per domani sera alle 19.30 nella sala consigliare di Sant'Angelo Invado dove c'è questo incontro sui temi tra i quali appunto questo pezzo della 90 del partito del Carroccio Fossombrone punta invece l'attenzione sul fronte sicurezza e sorveglianza stasera alle ore 21 nella sala del consiglio comunale di Fossombrone si parla di sicurezza pubblica anzi sicurezza urbana l'amministrazione e le forze dell'ordine incontrano i cittadini Valmetauro ZTL progetto siamo sempre a Fossombrone per un giro di vite più controlli e meno permessi la polizia locale su indicazione della giunta accoglie le proteste dei residenti saranno limitati dunque a Fossombrone gli accessi e sanzionate le irregolarità segnalate con insistenza gli studenti incontrano i carcerati attraverso un libro una nuova esperienza di lettura con Eveline e le fate partecipano anche i magistrati a Ferminiano invece comunicazioni via monitor la città si è dotata di nove schermi a led a basso consumo energetico installati in tutto il territorio comunale per informare i cittadini l'ultima una delle ultime pagine anzi della nostra segna stampa Vallefoglia vigilanza notturna Ucchielli il sindaco è al lavoro intanto Raffaello diventa un tour in bici il sindaco impegnato su più fronti a breve il taglio del nastro di bocciodromo e teatro branca e poi un atto articolato a pian del bruscolo che finisce in panne strade bloccate per ore il mezzo si è fermato in curva e ha richiesto la chiusura della Carrate e poi eccola qua invece l'ultima pagina quella del Carlino che riguarda lo sport Fossombrone strepitoso vince la Coppa Italia eccellenza superato il porto da Ascoli apre conte per i metaurensi pareggia Valentini al novantesimo Patarchi regala invece la grande gioia Porto d'Ascoli che perde nel terreno neutro di Senigallia 2 a 1 contro la Fossombronese e dunque Fossombrone che tocca il cielo con un dito perché la squadra di Michele Fucili è regina di Coppa Italia di eccellenza e supera il Porto d'Ascoli appunto come abbiamo detto 1 a 2 è tutto per questa edizione della nostra segna stampa grazie per averci seguito questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a questa sera